buongiorno a tutti quanti e bentornati alla rubrica caffè e mercati ben ritrovati un saluto come sempre da riccardo zago sono stato assente una settimana ma ora torniamo super operativi sui mercati ricordo tra l'altro che oggi c'è il corso ichimoku e price action parte la prima puntata potete ancora iscrivervi tra l'altro se siete interessati questa sera vi aspetto dalle ore 18 alle ore 20 bene ora andiamo sul sito investire.biz e poi subito sui mercati perché dobbiamo vedere molte molte cose allora eccoci qui come detto questa sera se andate nella sezione appuntamenti troverete scusate se vi siete iscritti se vi siete iscritti al al corso come potete vedere la lezione numero 1 quindi sarà questa sera ancora al 50 per cento di sconto quindi potete potete continuare potete insomma usufruire di questa di questa offerta andiamo però subito sui grafici perché dobbiamo fare molti aggiornamenti allora sta andando sta andando tutto molto bene devo dire perché allora intanto parliamo di euro dollaro euro dollaro ha raggiunto i minimi in area 1.17 un livello molto interessante tra l'altro che stavamo tenendo sotto osservazione adesso sta tornando a salire però qui il trend è palesemente ribassista almeno per il momento quindi io direi che un ritorno e ci siamo quasi in area 1.1850 secondo me potrebbe essere un'occasione molto molto interessante per tornare ad acquistare dollari americani quindi attendiamo il livello di 1.1850 dove abbiamo già impostato il nostro alert e poi nel gruppo traders club andremo a vedere anche quali saranno gli stop loss take profit e la gestione della posizione è andata benissimo la nostra operazione sul gold perché l'abbiamo aperta da 1.740 l'abbiamo chiusa esattamente sui minimi in area 1.680 direi che abbiamo abbiamo insomma chiuso alla perfezione proprio qui sui minimi e adesso i prezzi stanno tornando a salire come possiamo vedere siamo all'interno di questo range quindi il trend si è ancora ribassista però come potete vedere c'è un po' di indecisione perché siamo sempre dentro questo trading range quindi per il momento non vado non vado a posizionarmi chiaramente la rottura del livello di 1.680 andremo ad aprire nuove posizioni al ribasso mentre una rottura del livello di 1.740 al rialzo darà già i primi segnali di cambio di trend andiamo avanti però perché dobbiamo vedere facebook finalmente facebook ha rotto i massimi precedenti proprio nella giornata di ieri quindi ha rotto con forza la zona dei 300 dollari 300 dollari per azione noi siamo long da 275 oggi molto probabilmente all'apertura dei mercati americani andremo a chiudere questa ottima operazione che abbiamo fatto sul titolo facebook quindi molto bene così per chi invece vuole lasciar correre vuole lasciar correre i profitti segnalo una resistenza molto interessante in area 320 325 dollari per azione andiamo avanti dobbiamo vedere s&p 500 s&p 500 che sta salendo molto molto bene noi siamo long da 3912 per la precisione con stop loss in pareggio il nostro target price si trova in area 4125 punti e noi lasciamo correre fino a lì possiamo anche valutare di portare a casa parte del profitto o comunque alzare lo stop loss intorno alla zona dei 4000 punti e lasciar correre fino a 4125 invece se siamo comunque contenti dell'operazione che abbiamo fatto che da questo punto ha avuto degli ottimi rapporti di rischio rendimento insomma si può anche valutare di chiudere interamente la posizione comunque la view rimane rialzista continuiamo a comprare sui ritracciamenti il prossimo livello su s&p 500 è 3900 e 75 stiamo parlando di time frame giornaliero come tutti i grafici che abbiamo visto fino adesso e questo è l'S&P 500 cash concludiamo la nostra rubrica di quest'oggi con litecoin molto bene anche qui stiamo guadagnando abbastanza siamo long più o meno dalla zona dei 200 come possiamo vedere questa zona resistenziale sta facendo i prezzi stanno facendo un po fatica a rompere questa zona resistenziale secondo me questa zona verrà rotta per poi arrivare in area 240 dove si potrà portare a casa a mio avviso parte del profitto bene ragazzi allora noi ci vediamo questa sera alle ore 18 al corso completo che finalmente inizia di ichimoku e price action auguro una buona giornata e un buon trading a tutti